un attimo di tempo a tutti quelli che ci stanno seguendo di scrivere le domande soprattutto a mettersi in divisa prepararsi perché tra poco veronica e giada ci faranno vedere gli esercizi che possiamo anche fare da casa noi che non siamo proprio degli attraiti professionisti come voi ma è assolutamente l'unica cosa importante che tutte le persone che si collegheranno e vorranno allenarsi con noi è di procurarsi due bottiglie d'acqua piene e una bottiglia di un detersivo con il manico brava guarda che già da far vedere tutto questa è l'unica cosa è una sedia o insomma il divano per fare degli esercizi per le braccia per il resto non c'è bisogno di niente altro solo di niente altro solo della voglia allora già da due bottiglie insomma detersivo abbiamo detto una sedia e volevo chiedervi questi esercizi che ci proponete tra poco possiamo farli anche noi io parlo proprio da sedentario cronico che monta video e fa delle cronache ma anche noi comuni mortali non proprio sportivi possiamo fare questi esercizi insomma voi si assolutamente si sono esercizi di base molti sono molto semplici noi questi eserci questi circuiti quando li facciamo li ripetiamo per tante volte sei volte ripetiamo 12 esercizi con delle tempistiche ben scandite è ovvio che noi qui cerchiamo di dare un po un'idea di quello che è un circuito che noi facciamo ma chiunque ci può seguire anzi ci fa molto piacere quindi seguiteci numerosi così ci divertiamo insieme insomma iniziate allora iniziate basta mi dicono inizia lasciale partire e allora io ragazzi vi cedo la parola mettiamo anche il timer perché già da mi avevi detto sono più o meno esercizi da 30 secondi giusto allora la nostra idea poi io diciamo guiderò un pochino di più e veronica mostrerà gli esercizi in contemporanea li farò anche io però diciamo io comando e lei esegui diciamo così e allora partiamo con una prima parte di mobilità per riscaldare tutto il corpo con alcune tenute lavoro di squat al muro per cercare appunto di riscaldare dopo di che partiamo col circuito vero e proprio e da lì noi lo facciamo di solito sei volte noi lo faremo una volta poi vediamo le dentistiche che abbiamo e sono 12 esercizi e successivamente stretching quindi direi partiamo e divertiamoci veronica ma belen riuscirebbe a fare queste circonduzioni di bu di bacino giusto veronica scusa ma gioglio questo esercizio come lo farebbe saltando non ti sbagliare proprio è questo esercizio io ne sono la regina non lo faccio la regina è equalizzato